eccovi cinque film rivedremo degli autori storici e vi prego di notare la leggerezza con cui hanno condotto il racconto considerate le difficoltà del lavorare con la pellicola invertibile che non perdona errori di montaggio che è poco sensibile alla luce insomma riponete per un momento il computer. Questa sera ci sono vari generi che vi lasciamo scoprire durante la proiezione senza rovinarvi il gusto della sorpresa. Si va dal film a soggetto al documentario al reportage di viaggio. Buona visione!